Un lavoro che rischia a questo punto di essere stato vano ha generato grande sorpresa l'annuncio della RAI di non mandare in onda la fiction televisiva sul Riace, a dirle stato l'amministratore delegato della radio e televisione italiana Fabrizio Salini in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano. Secondo Salini infatti non è prevista una collocazione in palinsesto, la fiction, lo ricordiamo, si chiama Tutto il mondo e paese con Beppe Fiorello nelle veste dell'ex sindaco Mimmo Lucano. Chiaramente il prodotto tv era incentrato sul mondo dell'accoglienza dei migranti, la fiction inoltre era stata già interamente girata alza del primo stop che avevano subito le riprese, a seguito delle vicende giudiziarie che avevano interessato Lucano. A suo tempo, oltre a Lucano, a protestare fu lo stesso Fiorello, ora una notizia che certamente provocherà numerose reazioni e polemiche.